Entra nella fase esecutiva la procedura per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano di passeggeri su Pullman in Sicilia. L'assessorato regionale infrastrutture della mobilità e dei trasporti, secondo quanto previsto dal nuovo codice degli appalti, ha notificato il disciplinare con la richiesta di offerta alle aziende che avevano presentato la disponibilità a partecipare al bando europeo avviato lo scorso 28 marzo. Il termine per la presentazione della documentazione è il 28 ottobre prossimo. È una svolta per i servizi di trasporto pubblico regionale, dice l'assessore ai trasporti e alla mobilità Alessandra Ricò, per la prima volta si procede attraverso una procedura evidenza pubblica. Questo assieme ai requisiti stabiliti dall'avviso consentirà di garantire ai siciliani collegamenti efficienti, moderni e di notevole qualità su tutto il territorio siciliano per un arco temporale consistente. L'importo complessivo a base d'asta del servizio è di poco più di 883 milioni di euro, IVA compresa la durata dell'affidamento è di nove anni. Le tratte da coprire previste dal banda ammontano oltre 53 milioni di chilometri ai quali si aggiungono gli 11 milioni di chilometri insegnati in house all'AST per un totale di 65 milioni di chilometri, il 4,4% in più delle percorrenze attuali. La procedura prevede la divisione del territorio regionale in quattro lotti, uno di questi, il secondo, comprende i territori di Catania, Ragusa e Siracusa per 10 milioni 259 mila chilometri. La procedura fissa, oltre ai requisiti tecnici per svolgere i servizi di trasporto pubblico, richiesto alcuni accorgiamenti sulla dotazione dei bus per migliorare le condizioni di viaggio degli utenti. In particolare i pullman dovranno avere una livrea unica, quadranti a led per l'indicazione del percorso, un distributore di snack e bevande, il WC in quelli impiegati nelle tratte a lunga percorrenza interprovinciali, il wifi a bordo, tv e spinotti di ricarica per cellulari e apparecchi informatici. Infine dovranno prevedere l'accesso agevole a bordo per i passeggeri con disabilità.